Ringrazio il capitano del Bari Ciccio Caputo che mi ha nominato e vi comunico che il Bari per dare un taglio concreto a questa iniziativa destinerà una parte dell'incasso della partita di oggi di Coppa Italia alla ricerca per la SLA. E poi nomino a mia volta il più grande tifoso del Bari, uno dei più grandi tifosi, Luca Medici, che è Cozzalone, che è sicuramente sensibile a questa iniziativa. Poi la mia amica e moglie di un altro tifoso, Nunzia De Girolamo, che sta diventando tifosa del Bari e che con il suo operato alla Camera cercherà di aiutare la SLA, la ricerca per la SLA. E poi nomino il presidente della Lega di B, Andrea Bodi, che con iniziativa B solidale aiuta tutte queste operazioni di comunicazione. E poi nomino mio figlio Romeo che mi sta provvedendo a bagnare.